E oggi è anche patch ed è per 5.11 Bombs Away Patch Quante volte ci buttiamo a bomba nelle cose che ci piacciono, nelle cose che vogliamo realizzare Ma tanto lo sappiamo no? Quando una cosa ci piace, quando sentiamo che è giusto farlo, ci buttiamo dentro animo e corpo Ecco se anche voi a volte vi sentite così, la nuova patch di 5.11 è proprio quello che fa per voi Bombs Away Patch Ed è proprio un'espressione inglese questa di Bombs Away che viene utilizzata per indicare il momento preciso In cui una bomba viene rilasciata da un aereo Nel contesto quotidiano invece, a meno che voi non lavoriate sugli aerei dell'aeronautica Beh viene utilizzata questa frase Bombs Away per indicare appunto il lanciarsi in un'impresa oppure un'attività Con un sacco di entusiasmo e senza esitazione Ma basta filosofeggiare perché di patch ce ne sono tante Tutte su backpack.it E lì sicuro troverete quella che fa per voi e per il vostro attuale stato d'animo Intanto Bombs Away E lì sicuro